L'emozione di un concerto vissuto, sentito e partecipato, lo scenario incantato della collegiata di Santi e Bo di Tanna fare da sfonda uno dei momenti più attesi ed emozionanti delle celebrazioni per il sessantesimo della firma del gemellaggio tra la cittadina francese e Gubbio. Una giornata storica un po' per merito anche dei cantori sbiati Ubaldi e l'orchestra diretta dal maestro Renzo Menichetti che è incantato con le note del concerto dal titolo Il Desiderio del Perdono, apprezzato ed applaudito da una platea che esplosa al termine delle esecuzioni in un lungo applauso. Prima del concerto i sindaci delle città gemellate, Filippo Mario Stirati per Gubbio, Romain Luthringer per Tann, hanno rivolti il loro saluto ufficiale alla platea e posto la firma rinnovo del gemellaggio, così come fecero i loro predecessori 60 anni fa. Questo straordinario incontro è il più antico gemellaggio d'Europa, che ci unisce nel nome di Sant'Ubaldo. Ascoltare il canto lume della fede nella cattedrale di Tanna è stato per me un momento indimenticabile e un'emozione straordinaria. Questi sono dei momenti che rafforzano negli anni i nostri sentimenti d'amicizia e d'unione. E io voglio ringraziarvi veramente per questa calorosa accoglienza nello spirito di una lunga e bella amicizia. Viva Tann, viva Gubbio! Il concerto dei Cantores è stato il preludio alla giornata di festa perché sabato 30 giugno, davanti alla collegiata, con la cremation de Trois-Apen, verrà ricordato il miracolo dei trepini accesi, così come apparverà agli occhi del fedele servo di Sant'Ubaldo e del conte di Engelburg. Per l'occasione ad accendere uno dei trepini è stato invitato Fabio Mariani, in qualità di presidente dell'Università dei Muratori, a testimonianza di un legame forte che esula dal puro lato istituzionale. E' un momento importante e significativo perché va anche a ricoprire i 60 anni del gemellaggio, è una data fondamentale, il gemellaggio più antico d'Europa sicuramente va festeggiato con tutti i crisi. Anche avere Pietras questa sera alla Corale che ha fatto questo bellissimo spettacolo è un segno distintivo ancora in più. Io personalmente sono orgoglioso di rappresentare l'Università dei Muratori in questa giornata che è un riconoscimento anche per l'attaccamento, per come sono state custodite le tradizioni, il gemellaggio e l'amicizia con il popolo di Tanni questi anni.